Il Giro d'Italia si svolge tra l'appassionata attenzione non solo dei cultori del ciclismo ma di tutti gli italiani. Ecco alcune fasi della corsa sulla Rimini-Tirente con l'arrivo dei corridori allo Stadio Berta. Il Giro d'Italia Ancora una volta guerra ha dominato in volata Olmo, Camusso e altri cinque sulla pista dello stadio dopo una tappa in colore.